ha partecipato e collaborato alla realizzazione di tutto questo e ora terminata questa parte credo comunque che è significativa e importante per quanto formale dei saluti e dei ringraziamenti si entra nel specifico dell'impegno di stamane della presentazione del progetto e critichiamo la coordinatrice dall'inizio di questa iniziativa di Ampini Culturali Valentina Galloni che insieme ai responsabili del Presidente Puccini, della sezione archivio del Santo Puccini e della sezione musei Dara Carvini con anche la responsabile dell'assessorato della cultura Rosanna Mari presenterà il progetto della quarta unità Prego